Non ci sarà Fulvio Colini sull'aereo che condurrà Little Service Pesaro in Sardegna a giocarsi sabato la gara d'andata dei play-out col Monastir. Il 65enne allenatore romano è stato clamorosamente esonerato dalla società del presidente Lorenzo Pizza alla vigilia degli spareggi da dentro o fuori per il mantenimento della massima serie. A guidare Little Service nei play-out sarà Davide Barnesi, vice di Colini nelle ultime due stagioni al quale è stata affidata la squadra. Attraverso un comunicato ufficiale l'Ital Service fa presente, come sia stato reso pubblico a mezzo stampa, l'accordo che vedrà lo Special One del Calcio 5 sulla panchina di un'altra società per la prossima stagione, destabilizzando in maniera significativa spogliatoio e ambiente dell'Ital Service a pochi giorni da due gare di cruciale importanza. La nuova società in questione è la Fel di Eboli, battuta dall'Ital Service nell'ultima finale scudetto, ovvero del terzo tricolore cucito sul petto da Ital Service e Colini assieme. Nel comunicato l'Ital Service scrive come per riportare totale serenità all'interno dello spogliatoio, evitare mossi e voce di mercato condizionanti, nelle due gare di play-out in arrivo l'esonero di Colini è stato inevitabile. Comunicato in cui si legge anche lo ringraziamo sinceramente ancora una volta per tutte le gioie conquistate assieme. Semplicemente gli diciamo pubblicamente, mister, avremmo potuto concludere la nostra storia in modo sereno e piacevole come meritavamo tutti, ma anche stavolta hai voluto fare tutto di testa tua. Amen, un sincero in bocca al lupo per le future esperienze professionali.